Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Oggi voglio farvi vedere, sì, voglio farvi vedere i risultati, almeno darvi un'idea dei risultati incredibili che la Deserve Academy mi sta dando. Ora, ovviamente siamo di fronte a dei guadagni importanti, dati sensibili, non posso, diciamo, non voglio neanche dire, diciamo, tutte le cifre esatte di tutto quello che ho investito e i profitti, però vi voglio far vedere su un exchange, Bing X, ho preso delle cripto, che loro appunto consigliano, per chi non fosse a conoscenza di che cosa sia la Deserve Academy, è un gruppo Telegram dove Alex, che è anche un YouTuber, Alexander Lex, insieme al suo collega Manu, trader professionisti, esperti del mondo cripto, diciamo, con la giusta esperienza per lucrare in modo significativo, cioè non si tratta solo di guadagnare dalle cripto, ma di estrarne il maggior profitto, perché ci vuole esperienza, ci vuole esperienza sia di precedenti cicli, errori, e loro sono proprio arrivati al momento giusto, prevedendo da, diciamo, quasi dieci anni, se non più di dieci anni di esperienza, due cicli passati, se non di più, ok, sono arrivati, sono pronti, e lo sto vedendo, sono pronti a lucrare nella prossima Burran con le cripto, e hanno creato questo gruppo per condividere, per far lucrare anche persone che sono meno esperte, io sono una persona per niente esperta, come ho detto in un video precedente, addirittura le cripto mi annoiano, però riconosco, diciamo, il potenziale, è un settore che ti permette di investire anche qualche migliaia di euro, e trasformarlo anche in decine e decine e decine di migliaia di euro, in 12 mesi, 18 mesi, se ti interessa entrare, è un gruppo Telegram, dove stiamo costruendo dei portafogli, ne è iniziato uno adesso, con 3.000 dollari, possono seriamente diventare 30.000, 50.000, ok, in più ci sono gli altri portafogli dove puoi accedere e vedere che cripto abbiamo comprato, ci sono le chat, c'è la chat dove hai assistenza 24 su 24, hai i tre portafogli, puoi accedere alle migliori cripto che performeranno da paura nella prossima Burran, adesso c'è l'Halding, marzo-aprile, no, mi sa, d'aprile, poi parte la Burran qualche mese dopo l'Halding, ci sarà, diciamo, una fine 2024 incredibile, è un 2025 pazzesco da farci un sacco di soldi, ti faccio vedere, comunque in descrizione c'è il link, allora le iscrizioni si sono chiuse il 5 febbraio perché si aprono ogni mese, però siamo agli sgoccioli ragazzi, noi, mi pare di aver capito, accumuleremo fino all'Halding, quindi da adesso fino ad aprile hai ancora una finestra di tempo, magari puoi entrare nel wallet nuovo ed è facile da seguire con quello che hai, però è un'opportunità che in 12 mesi marra 18, perché nel gruppo The Serve Academy appunto verremo seguiti, siamo più di 100 membri, stiamo già tutti lucrando, ma verremo seguiti perché non c'è il lucro finché non usciamo dai mercati, ora siamo dentro, stiamo investendo, ma verremo aiutati anche in questo, seguiti passo passo nel trarre profitto, quindi se ti interessa vai nei link in descrizione, lascia la tua mail, c'è la presentazione della The Serve Academy, c'è anche un corso gratuito di un'ora dove ti spieghiamo, se non conosci niente, il mercato delle cripto, come funziona, perché è ciclico, perché sappiamo che ci sarà una crescita dei prezzi esponenziali, perché stiamo accumulando, e poi c'è il forno da compilare, se lo compili in questi giorni posso ancora farti entrare, ed è importante entrare adesso, perché appunto l'ultima finestra temporale per accumulare, se sei rimasto fuori, è fino ad aprile, e poi puoi costruire il tuo wallet seguito da dei professionisti, ti faccio vedere, quindi mai in descrizione lascia i tuoi dati e compila il form, quindi tu lasci la mail, ti arriva il video con tutti i dati per il pagamento, però ti consiglio di contattarmi, se vuoi entrare compila il form, c'è un pulsante, compili il form e io ti ricontatto, e poi parliamo a voce, e se vuoi entrare ti faccio entrare, io vi consiglio ragazzi di entrare, vi faccio vedere questi spiccioletti, parliamo di spiccioletti che ho messo su Bing X e alcune cripto, ora non vi posso far vedere le cripto, ok, però eccomi, ci sono 5.450 USD al momento su Bing X, faccio refresh, tanto questi li devo spostare, ovviamente tutti sull'hard wallet, che tra l'altro sono felicissimo di avere il mio hard wallet, era una cosa che mi sembrava difficile, invece grazie alla Reserve Academy custodisco le mie cripto, ho le chiavi delle mie cripto in modo sicuro, può fallire il mondo, io ho le mie cripto, possono fallire, non me ne frega più niente, quindi imparate anche, c'è l'angolo sicurezza, imparate anche a custodirle, veramente io stavo a zeno in tutto questo. Allora, questi 3.000 USD, ora sono 5.442, credo siano, sì, erano alcuni spiccioletti di alcuni progetti piccoli che erano su Bing X, li ho acquistati facilmente su questo exchange, vi faccio vedere solo la colonna del profit and loss, di questi progetti, non vi faccio vedere i progetti, ovviamente se volete, dovete entrare nella Reserve Academy, link in descrizione. Allora, abbiamo, qui abbiamo fatto il 96.15% più 828 dollari, qui il 52.47% più 386 dollari, qui il 4% 24 dollari, qui il 18% 92 dollari, qui il 29% 127 dollari, qui siamo a meno 8.32, ma ci può stare meno 23 dollari, qui meno 3.10 dollari, meno l'1.87%, qui abbiamo più 45%, più 2.5%, più 18%, più 3.51 dollari, 2.57%, ci saranno mille, sì, qua avrò messo 3-4.000 euro, sono diventati 5.000 al momento, 400 dollari, scusate, i dollari, e questi possono tranquillamente diventare 50, 30.000, 50.000 dollari in 12 mesi, 18 mesi. Ragazzi, queste sono le briciole di tutto quello che abbiamo investito, perché io sto seguendo tutti i portafogli, perché io sono entrato ad aprile 2023, benedico quel giorno, sono andato alla Black Week, Black, non so neanche, come si chiama quell'evento a Roma, la Blockchain Week a Roma, c'era Alex, già lo conoscevo perché avevamo già collaborato, mi dice, sto facendo sta cosa, mi aiuti a fare entrare gente, mi butta dentro e io dico, wow, io dico, wow, adesso, prima ero, dico, vabbè, se mi promuovo soltanto le crypto, poi vedo che comunque questi sono forti, ottengono risultati, c'è della gente dentro che sta facendo profitto, e inizio a comprare, compro tutto, ho comprato, io compro tutto, tutto quello che mi dicono, di tutti e tre i wallet, quello da 1.000 USDT, da 10.000 USDT, e ora quello nuovo con il settore RWA e l'intelligenza artificiale, che ha come budget tipo 3.000 dollari, quello è iniziato adesso, lo puoi seguire adesso, e possono diventare soldi che fra 12-18 mesi, interessanti, una liquidità interessante che ti può dare ossigeno, io non so più come dirtelo, questi ragazzi sono bravissimi, c'è il wallet da 10k e la prova di terza guerra mondiale, leggevo ieri, ok? Poi se prendete in piano full quello, fate l'abbonamento 18 mesi, risparmiate ovviamente l'abbonamento trimestrale, prendete tutto, 18 mesi, costa 1.500 USDT, avete più di 1.000 USDT di risparmio, e avete pure 10 incontri con Alex o con Mau che li seguono passo passo, li possono anche creare e personalizzare in base alle vostre risorse, venite, seguiti passo passo, se siete un attimo intelligenti e lungimiranti, 2.000 USDT, li investite, 12-18 mesi, 30, 40, 50, 100.000, poi dipende da quello che mettete, però funziona così il settore delle cripto? Ora stiamo entrando nella fase interessante tra, dopo l'anving, ci sarà da ridere, ci sarà da lucrare, non da riga, da lucrare. Più di farvi vedere questo ragazzi, le percentuali di alti, queste sono in briciole, in briciole che stanno su Bing X, ho detto ci faccio il video, queste in briciole possono diventare 30, 40, 50.000 USDT, ora io le sposterò, le metterò ovviamente nel wallet, nell'hard wallet, nella mia chiavetta, voi che volete fare? Siete intelligenti, andate nella descrizione di questo video, lasciate la vostra mail, guardatevi i video presentazioni, poi cliccate sul form, compilatelo, io vi contatto e vi faccio entrare, vi posso fare entrare, ed è importante entrare adesso, prima entri più lucri, c'è l'ultima finestra, da qui accumuleremo ancora, da qui ad aprile, ok? Mi pare di aver capito, c'è un nuovo wallet che è appena iniziato che lo recuperi facile, accede ai vecchi wallet che stanno performando da paura, se vuoi comprare qualcosa capire, poi prendi il piano completo per 18 mesi, vieni seguito direttamente da Alex & Marl, in incontri privati, video call, pazzesco, ragazzi sono a disposizione, 24 su 24, decidi tu, link in descrizione, spero di vederti dentro, per qualsiasi cosa, lasci la mail, ti arriva tutto il materiale, poi compili il form, io ti contatto e ti faccio entrare, ma agisci adesso, non perdere quest'ultima possibilità, ciao!